Andiamo adesso a Ravanusa dove l'esplosione ha portato già a sette morti accertati, si scava ancora sotto le macerie, si cercano ancora due persone disperse, allora andiamo subito nell'agrigentino da Messimiliano di Dio per tutti gli aggiornamenti. Sì e tra poco saranno esattamente 48 ore che i vigili del fuoco scavano tra le macerie e dopo questa violenta esplosione si cercano ancora padre e figlio Calogero e Giuseppe, al momento quindi sono sette le vittime accertate di questa tragedia, due le persone invece sopravvissute, è davvero la speranza chiaramente di trovare in vita i due dispersi, è davvero minima ormai, ma si procede chiaramente a scavare tra le macerie, vi diciamo anche che se la priorità resta appunto il recupero di queste due persone, si va avanti anche con l'indagine, la procura di agrigento, lo sappiamo, indaga per disastro e omicidio colposo, ci sono in campo anche alcuni esperti proprio per accertare a livello tecnico che cosa è accaduto nel sottosuolo, tra le ipotesi avanzate tra l'altro anche dal colonnello Stingo, il comandante provinciale dei Carabinieri in diretta proprio al Tgcom 24, lo abbiamo sentito, c'è quella appunto di una perdita di gas che poi ha provocato un accumulo di gas nel sottosuolo, perdita provocata probabilmente da una frana e lo stesso colonnello ha poi riferito di una rete, quella del metano vetusta, che risale al 1983-1984, che però era costantemente controllata, almeno vi erano controlli periodici anche settimanali e solo cinque giorni fa c'erano stati gli ultimi controlli che non avevano segnalato alcuna anomalia, pertanto verranno comunque una volta sequestrata l'intera area, rimosse tutte le macerie, verranno effettuati gli accertamenti tecnici, se così davvero risponde a verità. Noi abbiamo peraltro incontrato proprio qui a Ravanusa il prefetto di Agrigento che è venuto a fare un sopralluogo, peraltro vi diciamo anche che la protezione civile sta effettuando un censimento delle abitazioni per verificarne l'agibilità e determinare chi potrà rientrare o no in casa, sono al momento un centinaio gli sfollati che vanno peraltro dai vigili del fuoco a chiedere di poter entrare nelle loro case per recuperare effetti personali o beni di prima necessità e non sempre è possibile proprio a causa dell'insicurezza degli edifici. Sentiamo proprio le parole del prefetto che ha parlato anche di questa comunità. Nell'immediatezza naturalmente bisognerà dare un minimo di contezza, di certezza, di supporto a queste persone per quanto riguarda un tetto, un tetto un po' più stabile, tenuto conto che è chiaro che i tempi dell'inchiesta saranno quelli che saranno, non possiamo immaginare che siano tempi brevissimi, quindi bisognerà dare un po' di stabilità a queste persone e poi bisognerà guardare anche un po', dicevamo con il sindaco, al futuro di quest'area. Diciamo che un po' tutta la provincia è interessata da fenomeni franosi, tra l'altro noi quest'anno, come tutti sanno, abbiamo avuto un'estate molto torrida, un'estate terribile, con temperature elevatissime e con incendi che hanno devastato buona parte del territorio e poi subito dopo abbiamo avuto queste piogge insistenti, torrenziali, assolutamente in molti casi imprevedibili per quantità e per localizzazione. Certo tutto questo rende un territorio di per sé abbastanza fragile, ma per una sua struttura lo rende ancora più fragile e più difficile da gestire.